Musica 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 Questo qua è la casa delle mome dei Giardini Cavour In due stanze c'è un fortile grande, un campo da calcio e due canesti. Questa organizzazione fa cose per bambini. Io sono Marco, oggi qui siamo in questo oratorio, abbiamo fatto dei disegni, cioè noi dovevamo disegnare dietro un foglio, una cosa, o un fiore o una foglia, ecco, e poi dietro c'era la parte colorata dovevamo ritagliarlo, la parte che era ritagliata col buco si chiamava negativo e la parte che avevamo ritagliato, il fiore o la foglia era la positiva, noi gli dovevamo dare il negativo, lei lo ritagliava un po' i bordi, lo attaccava, poi lo attaccava su una specie di cornice con una rete, con un agigio strano, prendeva dei colori, li metteva sopra e faceva, faceva il colore sopra, quando alzava questa cornice con una rete, sotto c'era il foglio con tutti i disegni che avevamo fatto. Grazie a tutti! Grazie a tutti!